Nel passato ragazzi, ripresi i video di Corrado, te le legge. Mi dirà che ci sta, ma le dirò che voglio prenderla, le dirò, le dirò. La parte romana, che mi avverà. Con lei io sarò dolcissimo, perché il suo amore è un miracolo. Quindi guida a me, lei berrà, perché solo a me amerà. Ma le dirò, le dirò, le dirò, che credo in lei, le dirò, le dirò. Che cazzerò mai, che mi avverà. Che mi avverà. Signori Claudio Barbieri, bravissimo!